Lezione 1. L'oggetto mancante. Ehi Anna, non sono riuscito a trovare l'articolo che cercavo nel negozio. Sai se lo hanno in magazzino? Ehi John! Oh, peccato! Che oggetto stavi cercando? Stavo cercando di acquistare un nuovo caricabatterie wireless, ma hanno detto che erano tutti esauriti. Ah, capisco. I caricabatterie wireless sono stati molto popolari ultimamente, quindi potrebbero esaurirsi rapidamente. Sì, è quello che mi ha detto il personale. Hanno detto che si aspettano una nuova spedizione a breve, quindi dovrò riprovare più tardi. Beh, è bello sentirlo. Almeno presto ne avranno altre in magazzino. Nel frattempo, potresti provare a cercare online il caricabatterie. È un'ottima idea. Controllerò anche alcuni negozi online. Spero di trovarne uno prima del mio viaggio la prossima settimana. Sono sicuro che riuscirai a trovarne uno. Fammi sapere se hai bisogno di consigli su buoni caricabatterie wireless. Lo farà. Grazie per il suggerimento. Apprezzo l'aiuto. Lezione 2. Border crossing. Ehi Anna, sono un po' nervosa per il mio prossimo viaggio. Non ho mai viaggiato a livello internazionale prima d'ora. Oh, davvero? Cosa ti rende nervoso al riguardo? Beh, ho sentito che il valico di frontiera può essere un po' complicato. Hai qualche consiglio? Ah, capisco. I valichi di frontiera possono essere un po' intimidatori, ma finché sei preparato, dovrebbe essere abbastanza semplice. Per che tipo di cose devo prepararmi? Di solito controllano il tuo passaporto e fanno alcune domande. Sì onesto ed educato e dovresti essere pronto a partire. Ok, non suona poi così male. Che tipo di domande fanno di solito? Potrebbero chiederti lo scopo del tuo viaggio, per quanto tempo rimarrai lì e dove alloggerai. Basta essere pronti a rispondere a questo tipo di domande. Capito. Mi assicurerò di avere tutti i miei documenti pronti e farò pratica con le mie risposte. Grazie per il consiglio. Lezione 3. Meraviglie wireless. Ehi Anna, volevo parlarti di questo nuovo caricabatterie wireless che ho appena acquistato. Oh, davvero? Cosa ne pensi? È incredibile. Adoro quanto sia comodo. Niente più cavi aggrovigliati. È fantastico. Cosa ti ha fatto decidere di acquistare un caricabatterie wireless? Beh, ero stufo di dover trovare il cavo di ricarica ogni volta che la batteria del mio telefono era scarica. Quello wireless è molto più semplice. Capisco il fascino. Come funziona esattamente? Basta posizionare il telefono sul pad di ricarica e la ricarica si avvia automaticamente. Non è richiesto alcun collegamento. Wow! Sembra davvero conveniente. Forse dovrò cercare di comprarne uno io stesso. Lo consiglio vivamente. È stato un punto di svolta per me. Non dovrò più dimenticare di caricare il mio telefono prima di uscire di casa. Questo è un ottimo punto. Sembra un investimento utile. Dovrò controllare alcune opzioni. Fatemi sapere se avete altre domande. Sono lieto di condividere ulteriori informazioni sulla mia esperienza di ricarica wireless. Lezione 4. Island Hopping Ehi Anna, sei mai stata alle Hawaii? No, non l'ho fatto. Ma è sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio. Che mi dici di te? Ci sono andato qualche anno fa ed è stato un viaggio fantastico. Ho visitato sia Oahu che Big Island. Oh, sembra meraviglioso. Quali erano i punti salienti di quelle due isole? Bene, Oahu è nota per la sua vivace capitale Honolulu e per la famosa spiaggia di Waikiki. Ma Big Island è davvero unica. Cosa rende la Big Island diversa? È la più grande delle isole haiane e ospita vulcani, spiagge di sabbia nera e incredibili paesaggi naturali. Wow, sembra incredibile. Sei riuscito a vedere i vulcani da vicino? Assolutamente. Ho fatto una visita guidata al Parco Nazionale dei Vulcani ed è stata un'esperienza incredibile. Posso solo immaginarlo. Deve essere stato mozzafiato. Ne avevi una preferita tra le due isole? È una scelta difficile, ma direi che Big Island mi ha lasciato la più grande impressione. La diversità dei paesaggi è semplicemente strabiliante. Buono a sapersi. Dovrò assicurarmi di visitarli entrambi quando finalmente arriverò alle Hawaii. Non te ne pentirai. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli per pianificare il vostro viaggio. Lezione 5. Padroneggiare la produttività Ehi Anna, ultimamente sto cercando di capire il modo migliore per strutturare il mio tempo di studio. Oh, questo è un argomento interessante. Con cosa hai avuto problemi? Beh, sento di non essere sempre così produttiva come potrei essere. A volte faccio fatica a rimanere concentrato. Capisco. Hai provato a implementare qualche strategia per aiutarti? Non proprio. Non so quale sia il tempo di apprendimento ottimale o come massimizzare la mia produttività. Beh, ci sono alcune cose che puoi provare. La chiave è trovare ciò che funziona meglio per te. Tipo cosa? Sono aperto ai suggerimenti. Bene, la ricerca mostra che sessioni di studio più brevi e frequenti possono essere più efficaci delle lunghe sessioni di studio di maratone. Ah, è bello sapersi. Tendo a cercare di stipare tutto in una volta. Giusto. E questo può effettivamente essere controproducente. Prova a suddividere il tempo di studio in blocchi di 25 e 30 minuti con brevi pause intermedie. Ok, questo ha senso. E qual è l'ora del giorno ottimale per studiare? Questo può variare da persona a persona, ma molte persone trovano di essere più concentrate e produttive al mattino o nel primo pomeriggio. Capito. Dovrò sperimentare e vedere cosa funziona meglio per il mio programma e il mio stile di apprendimento. Sicuramente. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi ed errori, ma trovare quella routine ottimale può fare una grande differenza. Fantastico. Grazie mille per i suggerimenti. Apprezzo molto il consiglio. Lezione 6. Anche le pause. Ehi Anna, sento di aver davvero bisogno di una pausa dal lavoro. Ho lavorato senza sosta ultimamente. Ti sento. A volte abbiamo tutti bisogno di un po' di tempo per ricaricarci. Che tipo di pausa pensavi di prenderti? Beh, stavo pensando di prendermi una breve vacanza, o anche solo un lungo weekend. Ho solo bisogno di un po' di tempo per me stessa per rilassarmi e distendermi. Sembra un'ottima idea. Un cambio di ritmo può fare miracoli. Dove pensavi di andare in vacanza? Non ne sono ancora sicuro. Forse in un posto tranquillo e silenzioso, dove posso disconnettermi da tutto per un po'. Sembra perfetto. Ti meriti una pausa. Spero che tu riesca a trovare il posto giusto per ricaricarti e tornare riposato. Anch'io. Suppongo di dover imparare ad essere più paziente con me stesso e a non sforzarmi così tanto. Assolutamente. Fare delle pause è importante per il benessere generale. Non aver paura di metterti al primo posto a volte. Hai ragione inizierò a cercare alcune opzioni per una vacanza piacevole e rilassante. Grazie per l'incoraggiamento. Lezione 7. Piattaforme di pagamento Ehi Anna, hai utilizzato una delle nuove piattaforme di pagamento ultimamente? Sì, ce l'ho. Sono rimasto davvero colpito da quanto siano comodi e facili da usare. È bello sentirlo. Ho esitato un po' a provarli, ma sembra che ne valga la pena. Sicuramente. Adoro il modo in cui posso pagare le cose con pochi tocchi sul mio telefono. È molto più veloce che tirare fuori il portafoglio e i contanti. È vero, è molto più conveniente. Hai una piattaforma preferita che usi di più? Mi è piaciuto molto quello della mia banca. È super intuitivo e posso tracciare facilmente tutte le mie transazioni. Ah, è bello sapersi. Dovrò dare un'occhiata a quello. Grazie per la raccomandazione. Nessun problema. Fatemi sapere se avete altre domande sulle diverse piattaforme di pagamento. Sono sempre felice di condividere ciò che ho imparato. Lo farà. Questo è davvero utile. Penso di essere pronto a provare uno di questi. Lezione 8. Misurazione della temperatura. Ehi Anna, sto cercando di cuocere qualcosa nel forno, ma non sono sicuro a che temperatura impostarlo. Ok. Beh. Cosa stai cercando di preparare? Sto preparando dei biscotti e la ricetta dice di cuocerli a 205 gradi Fahrenheit. 205 gradi Fahrenheit? Sembra davvero alto. La maggior parte dei biscotti sono cotti a circa 350 gradi Fahrenheit. Oh, davvero? Mi assicurerò di ricontrollare la temperatura. Non voglio finire con biscotti bruciati. Buona idea! È sempre importante misurare accuratamente la temperatura durante la cottura. Hai un termometro da forno? No, non credo di saperlo. Devo prenderne uno prima di riprovare a cucinare. È un ottimo investimento. Un termometro da forno può davvero aiutare a garantire una cottura perfetta dei prodotti da forno. Sicuramente. Lo aggiungerò alla mia lista della spesa. Grazie per il suggerimento. Lezione 9. Appuntamenti e orari. Ehi Anna, ho un appuntamento la settimana prossima e sono un po' nervosa. Mi dispiace sentirlo. A cosa serve l'appuntamento? È solo un controllo di routine con il mio medico, ma divento sempre un po' ansiosa prima di queste cose. Capisco. È naturale sentirsi così, ma cerca di non preoccuparti troppo. Sono sicuro che andrà bene. Lo spero. Voglio solo assicurarmi di non dimenticare nulla o di arrivare tardi, capisci? Questo è comprensibile. Hai ricontrollato la data e l'ora dell'appuntamento? Sì, ce l'ho. È giovedì prossimo alle 14.30. Mi assicurerò di inserirlo nella mia agenda. Buon piano. E non dimenticate di concedervi un sacco di tempo per arrivarci, così non vi sentirete affrettati. Hai ragione. Dovrei programmare di arrivare con qualche minuto di anticipo. Grazie per il consiglio. Mi sento un po' meglio adesso. Lezione 10. Musica rilassante. Ehi Anna, mi sento un po' stressata ultimamente. Hai qualche consiglio per ascoltare musica rilassante? Assolutamente. La musica può essere un ottimo antistress. Che genere di generi ti piacciono di solito? Beh, sono disponibile a provare qualcosa di nuovo. Di solito ascolto molto rock e pop, ma sono dell'umore giusto per qualcosa di più rilassante. Ok. Ho la soluzione giusta. Hai mai provato ad ascoltare musica ambient o ispirata alla natura? No, non l'ho fatto. Com'è quello? È molto rilassante e pacifico. La musica spesso presenta suoni della natura, come pioggia, onde o campanelli eolici. Sembra adorabile. Sicuramente mi servirebbe qualcosa per rilassarmi. Che tipo di musica ti piace quando ti senti stressato? Mi piace molto ascoltare musica classica o composizioni per pianoforte. Le melodie sono così belle e rilassanti. È un'ottima idea. Dovrò fare un tentativo. Hai artisti o playlist specifici che consiglieresti? Assolutamente sì. Posso inviarti qualche suggerimento più tardi. Nel frattempo, cerca solo di trovare qualcosa che ti parli e ti aiuti a sentirti calmo. Sembra buono. Grazie, Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutarmi. Lezione 11. Prenotare un hotel. Ehi, Anna. Sto programmando un viaggio il mese prossimo. Hai qualche consiglio per prenotare un hotel? Assolutamente. Le stagioni non di punta possono essere un ottimo momento per prenotare un hotel. Potresti riuscire a ottenere una tariffa migliore. Questo è un buon punto. Devo prenotare direttamente con l'hotel o utilizzare un sito di terze parti? Dipende davvero. La prenotazione diretta con l'hotel a volte può comportare extra come il parcheggio gratuito o la colazione. Ma i siti di terze parti possono offrire offerte migliori. Capito. E per quanto riguarda la tassa, devo pagarla separatamente? Di solito la tassa è inclusa nella tariffa indicata dall'hotel. Ma è sempre una buona idea a ricontrollare prima di prenotare. Eccellente. È davvero utile. Inizierò a esaminare le opzioni. Grazie, Anna. Nessun problema. Sono felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farà. Apprezzo il consiglio. Lezione 12. Fare la spesa Ehi, Anna. Ho intenzione di andare a fare la spesa. Vuoi unirti a me? Certo. Mi piacerebbe. Cosa ti serve per procurarti? Bene. Avremo bisogno di pomodori, cetrioli, lattuga e del condimento per l'insalata. Suona bene. Stavo pensando che potremmo anche prendere della frutta. Ottima idea. Che tipo di frutta stavi pensando? Forse delle mele, delle banane e dei frutti di bosco. Sarebbero ottimi per spuntini o da aggiungere all'insalata. Perfetto. Bene. Allora andiamo al negozio. Sembra un piano. Sono entusiasta di scegliere dei prodotti freschi. Anch'io. Sarà una divertente gita a fare la spesa. Assolutamente. Sono sicuro che troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche di più. Fantastico. Allora andiamo? Lezione 13. Alimentazione sana. Buongiorno. Pensavo che potremmo prendere degli ingredienti sani oggi. Buona idea. Che tipo di articoli salutari avevi in mente? Beh, non dimenticare di prendere anche della frutta. Pensavo che potremmo prendere delle mele, delle banane e dei frutti di bosco. Oh, è un'ottima idea. Sarebbero perfetti per spuntini o da aggiungere alle nostre insalate. Esattamente. E probabilmente dovremmo prendere anche delle verdure. Forse dei pomodori, dei cetrioli e delle verdure a foglia verde. Assolutamente. Sarebbero perfetti per una bella insalata fresca. Potremmo anche procurarci del condimento salutare per accompagnarlo. Una buona idea. Mi assicurerò di aggiungerlo alla lista. Sembra che siamo sulla buona strada per una spesa nutriente. Sicuramente. Non vedo l'ora di provare nuove ricette salutari con questi ingredienti. Lezione 14. Cena vegetariana. Ehi Anna, ho sentito che quel nuovo ristorante vegetariano ha appena aperto. Vuoi dare un'occhiata? Oh, sembra incredibile. Volevo provare altre opzioni vegetariane. Lo stesso qui. Sono curioso di vedere che tipo di piatti hanno. Anch'io. Scommetto che hanno una varietà di deliziose opzioni senza carne. Assolutamente. Sono sicuro che avranno delle ottime insalate, hamburger vegetariani e forse anche degli stufati sostanziosi. Nam. Sembra tutto così bello. Mi viene fame solo a pensarci. Lo stesso qui. Andiamo lì a cena stasera? Sì. Facciamolo. Sono entusiasta di provare nuovi sapori vegetariani. Fantastico. Sarà un'avventura culinaria divertente e salutare. Lezione 15. Tempo di qualità. Ehi Anna, stavo pensando che potremmo organizzare una divertente attività in famiglia questo fine settimana. È un'ottima idea. Che cosa avevi in mente? Beh, potremmo organizzare un bel picnic nel parco. Sarebbe un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme. Oh, un picnic sembra adorabile. Potremmo preparare degli snack salutari e magari anche una deliziosa insalata. Esattamente. Sarebbe l'occasione perfetta per godersi la reciproca compagnia e stare insieme davanti a un pasto nutriente. Sono d'accordo. Inoltre, sarebbe un bel cambio di ritmo rispetto alla nostra solita routine. Sicuramente. Ci aiuterà a rafforzare i legami familiari e a creare dei bei ricordi. Sono così entusiasta di questo. Sarà un fine settimana meraviglioso. Anch'io. Non vedo l'ora di pianificare tutto e renderlo un giorno speciale per tutti noi. Lezione 16. Scenic Drive Ehi Anna, hai mai pensato di fare un giro panoramico? Penso che sarebbe un ottimo modo per uscire e godersi il bel tempo. Ciao John. È un'ottima idea. Adoro esplorare nuovi percorsi e ammirare lo splendido scenario. Dove avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo andare in montagna e dare un'occhiata a quella strada tortuosa con panorami incredibili. Organizzerò sicuramente un viaggio panoramico questo fine settimana. Oh, sembra adorabile. Sono sempre alla ricerca di nuovi snack da provare durante i viaggi in auto. Buon punto. Conosco alcuni ottimi locali che vendono snack deliziosi e unici. Mi assicurerò di scegliere alcune opzioni diverse. Sarà il mix perfetto per uno snack da viaggio. Meraviglioso. Non vedo l'ora guidare in campagna mentre sgranocchiamo gustosi snack. È il giorno perfetto se me lo chiedi. Anch'io. Mi assicurerò di pianificare un percorso piacevole e rilassante. Sarà molto divertente. Non vedo davvero l'ora. Grazie per averlo suggerito. È esattamente il tipo di avventura di cui ho bisogno. In qualsiasi momento. Sono felice che tu sia a bordo. Sono sicuro che questo viaggio panoramico sarà il momento clou del mio weekend. Lezione 17. Disavventure culinarie. Buongiorno. Ho sentito che stai cucinando ultimamente. Com'è andata a finire? Oh, hey John. La pasticceria non è stata esattamente un successo, ad essere onesti. Immagino di non aver lasciato abbastanza tempo per far lievitare l'impasto prima della cottura. Oh no, cos'è successo? È risultato troppo denso? Sì, esattamente. Il pane è uscito molto pesante e un po' pastoso al centro. Avrei dovuto essere più paziente e aspettare più a lungo prima di metterlo in forno. Capisco. Cuocere al forno può essere complicato se non segui attentamente i passaggi. Hai usato una ricetta specifica o hai semplicemente perso la memoria? Ho provato a seguire una ricetta, ma potrei aver eseguito alcuni passaggi in fretta. La prossima volta mi assicurerò di leggerlo attentamente e di dare all'impasto il tempo sufficiente per lievitare correttamente. È un buon piano. La cottura al forno è una questione di precisione. Sono sicuro che il tuo prossimo tentativo andrà molto meglio. Lo spero. Voglio davvero padroneggiare questa ricetta. Qualche consiglio che puoi condividere sulla base delle tue esperienze culinarie? Beh, trovo che sia sempre utile avere gli strumenti e le attrezzature giuste. Magari investi anche in un termometro da forno affidabile, solo per assicurarti che la temperatura sia perfetta. Termometro da forno? Capito. Lo aggiungerò sicuramente alle mie forniture da forno. Grazie per il consiglio. Grazie per avermi aiutato a risolvere questo problema. In qualsiasi momento. Sono felice di condividere ciò che ho imparato. Fammi sapere come va la tua prossima sessione di cottura. Lezione 18. Apparecchiare la tavola. Ehi Anna, ho notato che stai riorganizzando la casa. Come sta andando? Oh, sta andando bene. Sto controllando la nostra cucina e sto cercando di organizzare tutto meglio. Ho persino preso un bel nuovo set di bicchieri. È fantastico. Che tipo di bicchieri hai comprato? Sono sempre alla ricerca di belle aggiunte alla nostra cucina. Bene. Ho scelto un set versatile che può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dai bicchieri d'acqua al vino. Penso che avere una varietà di taglie e stili sarà davvero utile. Scelta eccellente avere quella varietà è così importante, soprattutto quando ci si diverte. Hai un modo specifico in cui ti piace apparecchiare la tavola? Sicuramente. Mi piace mescolare e abbinare i bicchieri, usare tovaglioli coordinati e aggiungere piccoli tocchi come un centrotavola. Rende il tavolo così invitante. Sono d'accordo. La presentazione è metà del divertimento. Una tavola ben apparecchiata crea davvero l'atmosfera per un pasto. Assolutamente. In realtà ho appena riorganizzato i nostri scaffali per facilitare l'accesso a tutti i diversi pezzi. Dovremmo avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra prossima cena. Sembra perfetto. Sono sicuro che qualsiasi cosa metterai insieme sarà fantastica. Il tuo occhio per il design è sempre perfetto. Grazie. Sono davvero entusiasta di mettere tutto insieme. Renderà l'hosting molto più semplice. Non vedo l'ora di vederlo in azione. Le impostazioni della tabella sono sempre un punto culminante. Lezione 19. Faccende e commissioni. Ehi Anna, com'è andata la tua giornata finora? Mi sembra di aver corso in giro come un matto. Oh, lo stesso qui. È tutto il giorno che cerco di leggere la mia lista di cose da fare. Ho un sacco di piccole faccende e commissioni da sbrigare. Ah, la lista infinita, eh? Che genere di cose hai fatto oggi? Beh, solo qualche piccolo riordino in casa, una corsa veloce a fare la spesa e qualche altra cianfrusaglie. Niente di grave, ma mi sta tenendo occupato. L'ho sentito. Ho dovuto passare in banca, lasciare un pacco all'ufficio postale e ritirare alcuni articoli per la casa. Mi sembra di aver girato tutta la città. Oh, sembra una giornata affollata. Almeno sei riuscito a fare tutto. Però, trovo molto soddisfacente spuntare delle cose dalla lista. Sicuramente. Sono le piccole vittorie, giusto? Ti è capitato di scoprire qualcosa di divertente o interessante durante le tue commissioni oggi? Non proprio. Solo le basi. Però ho visto un paio di nuove riviste nel negozio che hanno attirato la mia attenzione. Forse dovrò concedermi una lettura leggera più tardi. Oh, bello. È sempre bello farsi un regalo, anche in una giornata impegnativa. Forse dovrò unirmi a te per una pausa dalla rivista più tardi. Sembra un piano. Possiamo scambiarci storie sui nostri giorni produttivi, ma faticosi. Ah, perfetto. Proprio quello che il medico ha ordinato dopo una giornata frenetica di faccende e commissioni. Lezione 20. Weekend Jet Away. Ehi Anna, stavo pensando di fare un breve viaggio questo fine settimana. Avevi in mente qualche piano di viaggio? Oh, un weekend fuori porta? Sembra adorabile. Non ho pianificato nulla di specifico, ma sono sempre pronto per un'avventura. Ottimo. Stavo pensando che potremmo guidare fino alla costa e trovare una graziosa locanda o B&B in cui soggiornare per una notte o due. Cosa ne pensi? Sembra assolutamente perfetto. La costa è così bella in questo periodo dell'anno. Potremmo esplorare, goderci l'aria di mare e rilassarci. Esattamente. Ho pensato che sarebbe stato un bel cambio di ritmo rispetto alla nostra solita routine. Una piccola fuga per il fine settimana, se vuoi. Mi sento già più rilassata solo a pensarci. Hai in mente qualche punto specifico lungo la costa? Non ancora, ma farò qualche ricerca e vedrò se riesco a trovare un posticino incantevole. Forse possiamo anche trovare una o due escursioni panoramiche da provare. Oh, sì. Adoro una bella escursione con vista. Questo suona sempre meglio. Non vedo l'ora di andarmene dalla città per un po'. Nemmeno io. Sarà esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per ricaricarci. Mi occuperò della pianificazione e ti farò sapere i dettagli. Meraviglioso. Apprezzo davvero che tu abbia preso l'iniziativa in merito. Sarà un fine settimana fantastico. Assolutamente. Non vedo l'ora. Sarà la piccola vacanza perfetta. Lezione 21. Hangout soon. Ehi Anna, volevo chiederti, sei libera di uscire presto? Assolutamente. Mi piacerebbe. Quando avevi in mente. Che ne dici di questo fine settimana? Stavo pensando che potremmo mangiare qualcosa e chiacchierare. Sembra fantastico. Non vedo l'ora. Fantastico. Allora è un piano. Ti invierò i dettagli più tardi. Suona bene. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Questo sarà divertente. Sicuramente. A presto. Di sicuro. Abbi cura di te. Lezione 22. Un po'. Buongiorno Anna. Ho notato che non hai risposto al mio messaggio sull'uscire. Va tutto bene? Ehi John, mi dispiace. A volte mi basta un po' per rispondere. Sai com'è? Nessun problema, capisco. L'importante è che siamo ancora pronti per questo fine settimana, giusto? Assolutamente. Non vedo l'ora che arrivi. Sono un po' occupato ultimamente, ma mi assicurerò di chiarire i miei impegni. Ottimo. Sono felice di sentirlo. Non vedo l'ora di incontrarlo di persona. Nemmeno io. È passato troppo tempo. Ci vediamo allora. Suona bene. Tranquillo fino ad allora. Lezione 23. Sfruttare le opportunità. Ciao Anna. Ho avuto un'idea che volevo farmi passare da te. Oh, questo è interessante. Cosa hai in mente? Beh, stavo pensando. Con questa nuova opportunità che si è presentata, come possiamo davvero sfruttarla a nostro vantaggio? Hmm, questa è un'ottima domanda. Lasciami pensare a questo per un momento. Sono pazzo. Sento che c'è molto potenziale qui se giochiamo bene le nostre carte. Hai assolutamente ragione. Sto vedendo alcuni modi in cui potremmo massimizzare i vantaggi in questo caso. Sto ascoltando. Vai avanti. Ok. Beh, prima potremmo. Mi piace dove sta andando. Continua così. Sono entusiasta di saperne di più. Lezione 24. Smuts ride. Va bene Anna. È ora di salire a bordo del nostro volo. Pronta? Ci puoi scommettere. Sono tutto pronto e non vedo l'ora di andare. Eccellente. Spero che sia un viaggio senza intoppi e che ci arriviamo senza ritardi. Anch'io. Non vedo l'ora di fare questo viaggio. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che viaggiamo insieme. Sicuramente. Sarà bello trascorrere del tempo di qualità lontano dal solito trambusto. Assolutamente. Sono sicuro che ci divertiremo moltissimo. Su questo non ho dubbi. Lo facciamo? Dopo di te. Facciamolo. Ci siamo. Sarà un'avventura. Lezione 25. Scoperte convenienti. Ehi Anna, volevo parlarti di quegli articoli che ho ritirato l'altro giorno. Oh, quelli di cui mi parlavi? Com'è andata a finire? Davvero bene. Erano abbastanza convenienti rispetto a quello che avrei pagato nei negozi locali. È bello sentirlo. Sono lieto che tu sia riuscito a trovare ciò di cui hai bisogno a un buon prezzo. Sì, le offerte online erano semplicemente troppo belle per lasciarsele sfuggire. Sono davvero soddisfatto dei miei acquisti. Questo è fantastico. È sempre soddisfacente quando si riesce a fare un buon affare. Assolutamente. Dovrò condividere i dettagli con te più tardi. Per favore. Mi piacerebbe sapere di più sulle tue scoperte. Lo farà. Ci sentiamo presto. Lezione 26. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Ehi Anna, so di essere stata sommersa dal lavoro ultimamente. Che ne dici di te? Stai trovando un buon equilibrio? Oh, capisco benissimo. È stata una lotta anche per me. A volte sembra che non ci sia abbastanza tempo durante la giornata. Totalmente. E non si tratta solo del lavoro in sé, ma anche di tutte le altre responsabilità che abbiamo, capisci? Assolutamente. Mi ritrovo a rimanere in ufficio fino a tardi solo per stare al passo, ma poi mi sento in colpa per non aver passato abbastanza tempo con la famiglia e gli amici. Ti sento. Si tratta di un gioco di giocoleria costante. Hai provato qualche strategia per aiutarti a gestire tutto? Beh, ho cercato di essere più intenzionale nel fissare dei limiti e proteggere il mio tempo personale. Cioè, esco dall'ufficio a un'ora prestabilita ogni giorno, qualunque cosa accada. È un'ottima idea. Dovrei provarlo. Trovo anche utile programmare le attività non lavorative nel mio calendario, in modo che siano importanti tanto quanto i miei impegni lavorativi. Oh, questa è buona. Dovrò fare un tentativo. E cerco di raggruppare le mie faccende e le mie commissioni, in modo da non sentirmi sempre spinto in direzioni diverse. Eccellente e dobbiamo prenderci cura di noi stessi, giusto? È l'unico modo per evitare il burnout. Esattamente. L'equilibrio tra lavoro e vita privata è così importante, ma non è sempre facile da raggiungere. Ma dobbiamo continuare a provare. Assolutamente. Grazie per i suggerimenti. Mi sento ispirato ad apportare alcune modifiche e trovare un equilibrio migliore. Lezione 27. Provare i vestiti Ehi Anna, hai fatto acquisti ultimamente? Ho bisogno di vestiti nuovi ma non sono sicuro di cosa comprare. Oh, sono appena andato a fare shopping lo scorso fine settimana. Ho trovato delle offerte davvero fantastiche su camice e pantaloni nuovi. Avevi in mente qualcosa di specifico? Beh, sto cercando qualche nuovo outfit per il lavoro, ma non sono sicuro di quale sia il migliore. Sono d'accordo che provarli garantisce la giusta vestibilità e comfort. È un'ottima idea. Provare i vestiti è il modo migliore per assicurarsi che si adattino bene e si sentano a proprio agio. Inoltre, puoi vedere come ti appaiono stili e colori diversi. Esattamente. Voglio assicurarmi di avere qualcosa che non sia solo elegante, ma anche pratico per l'ufficio. Hai qualche consiglio sui negozi da visitare? Per gli abiti da lavoro, suggerirei di dare un'occhiata ad alcuni dei grandi magazzini di fascia media. Di solito hanno una buona selezione di opzioni dall'aspetto professionale che sono anche comode. Fantastico, è davvero utile. Darò sicuramente un'occhiata a questi. Voglio assicurarmi di trovare qualcosa che mi senta sicuro di indossare in ufficio. Sono sicuro che troverai qualcosa di fantastico. Prenditi il tuo tempo per provare diversi pezzi e non aver paura di chiedere opinioni. È a questo che servono gli amici. Hai assolutamente ragione. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a darmi qualche consiglio. Aiuta davvero a rendere il processo di acquisto molto meno faticoso. In qualsiasi momento. Sono felice di aiutarti. Fammi sapere come va quando vai a fare la spesa. Ok? Lo farà. Grazie ancora mi sento molto più preparato adesso. Lezione 28. Acquisti di abbigliamento con un budget limitato. Ehi Anna, devo prendere alcune camicie e pantaloni nuovi. Hai in mente un budget per l'abbigliamento? Bella domanda. Cerco di attenermi a un budget ragionevole, ma cerco anche pezzi di qualità che durino nel tempo. Lo stesso vale per me. Mi piacciono i vestiti che sono resistenti e non devono essere sostituiti ogni pochi mesi. Esattamente. Hai in mente un numero per quanto vuoi spendere questo tempo? Forse circa 200 dollari per iniziare. Forse dovrei comprarmi qualche bel top e un paio di jeans nuovi. Sembra fattibile. Probabilmente punterò a una gamma simile anche quando farò la spesa. Suona bene. Andiamo a dare un'occhiata alle vendite al centro commerciale questo fine settimana? Sicuramente. Sono entusiasta di trovare delle ottime offerte su alcuni pezzi versatili e duraturi. Perfetto. Allora è un piano. Non vedo l'ora di vedere cosa incontreremo. Lezione 29. Diviso tra due scelte. Ehi Anna, ho difficoltà a decidere tra due videogiochi davvero fantastici. Non riesco a scegliere quale acquistare. Oh, quali stai considerando? Forse posso aiutarti a valutare i pro e i contro. Bene. Uno ha una grafica incredibile e un mondo aperto da esplorare. Ma l'altro ha i miei personaggi preferiti e divertenti minigiochi. È una scelta difficile. Suonano entrambi alla grande. Cosa conta di più per te? La grafica o il gameplay? Onestamente sono lacerato. La grafica di uno è davvero impressionante, ma l'altro è più in linea con i giochi che di solito mi piacciono. Beh, magari prova a guardare alcuni video di gioco di ognuno. Questo potrebbe aiutarti a farti un'idea migliore con quale ti divertiresti di più. Buona idea lo farò. È così difficile perché entrambi hanno funzionalità interessanti che voglio davvero. Conosco la sensazione. A volte le decisioni più difficili sono tra due opzioni altrettanto interessanti. Ma lo scoprirai. Lo spero. Grazie per aver ascoltato. Ti farò sapere quale finirò per comprarmi. Lezione 30. Esplorazione delle opzioni di pagamento. Ehi Anna, volevo parlare di qualcosa sul nostro piano di pagamento. Oh, cosa c'è? Sono felice di esaminare i dettagli con te. Beh, mi chiedevo se potessimo prendere in considerazione l'idea di prolungare un po' il periodo di pagamento. Potrebbe funzionare. Cosa avevi in mente in termini di tempistiche? Forse potremmo prolungarlo per qualche altro mese? Mi aiuterebbe con il mio budget. Ok. Fammi dare un'occhiata alle opzioni. Penso che possiamo sicuramente farlo funzionare. Fantastico. Apprezzo davvero la tua flessibilità su questo. Farà una grande differenza per me. Lezione 31. Godersi la vita all'aria aperta. Buongiorno Anna. Hai programmato qualcosa di divertente per il fine settimana? In effetti. Stavo pensando di fare un'escursione. Ti piacerebbe unirti a noi? Sembra meraviglioso. Speravo sempre più voglia di stare all'aperto. Ottimo. Possiamo preparare un picnic e goderci l'aria fresca. Assicurati solo di applicare la protezione solare per proteggere la pelle. Buona idea. Mi assicurerò di insaponarmi. Non vedo l'ora di immergermi nella beatitudine della natura. Nemmeno io. Sarà una bella giornata per disconnettersi e ricaricarsi. Assolutamente. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno per resettare e ricaricare le mie batterie. Lezione 32. Cucinare insieme. Ehi Anna, ho voglia di provare una nuova ricetta. Hai qualche idea? In effetti. Lo faccio. Che ne dite di un delizioso piatto di pasta? Oh, sembra perfetto. Che tipo di pasta avevi in mente? Andiamo con un classico. Che ne dici degli spaghetti? Possiamo montare delle uova, grattugiare del formaggio e aggiungere un po' d'acqua per la pasta per ottenere una salsa cremosa. Gnam, mi sta già facendo venire l'acquolina in bocca. Abbiamo bisogno di altri ingredienti? Una semplice salsa di pomodoro sarebbe un bel complemento. Possiamo preparare anche quello. Sembra fantastico. Cominciamo a cucinare. Sono pronto a mettere alla prova le mie abilità culinarie. Lezione 31. Eventi inaspettati. Buongiorno Anna. Hai saputo del temporale di ieri sera? Ciò deve aver causato alcuni problemi. Sì, ho visto il telegiornale stamattina. Sembra che ci siano stati interruzioni di corrente in diverse aree. Spero non ti abbia influito troppo. Beh, la mia elettricità è andata via per alcune ore. È stato piuttosto scomodo, ma il personale dell'hotel è riuscito a far funzionare il generatore di riserva. È bello sentirlo. A volte questi imprevisti possono essere complicati, soprattutto quando si è in viaggio. Assolutamente. Sono contenta che l'hotel fosse pronto con un piano di riserva. Hanno davvero fatto di tutto per assicurarsi che gli ospiti si sentissero a proprio agio. È fantastico. È sempre bello quando le aziende sono proattive e dispongono di piani di emergenza per situazioni come questa. Sicuramente. Fa una grande differenza nel modo in cui le cose possono essere gestite senza intoppi. Mi assicurerò di lasciare una recensione positiva per l'hotel. È un'ottima idea. Un feedback positivo può davvero incoraggiare le aziende a mantenere un livello elevato di servizio clienti. Esattamente. Piccoli gesti del genere possono fare molto. Spero che il resto della giornata passi senza intoppi, nonostante la tempesta. Lezione 32. Per seguire una nuova passione. Ehi Anna, volevo parlarti di una cosa. Oh? Che cos'è? Sono pieno di orecchie. Beh, stavo pensando di iniziare un nuovo hobby, ma non so da dove cominciare. È eccitante. Che tipo di hobby ti interessa? Ultimamente sono stato molto affascinato dalla lavorazione del legno. Mi è sempre piaciuto lavorare con le mie mani e penso che potrebbe essere un ottimo sbocco creativo. Falegnameria. È? È un'ottima scelta. È un hobby così versatile e gratificante. Sì, sono davvero attratta dall'idea di creare qualcosa di tangibile con le mie mani. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Assolutamente. Innanzitutto, consiglierai di fare qualche ricerca per conoscere gli strumenti e le tecniche di base. Ci sono tantissimi fantastici tutorial online e nei libri. Buona idea. Inizierò a indagare su questo. E che ne dici di iniziare davvero? Qualche consiglio? Beh, suggerirei di iniziare in piccolo con un progetto semplice, come una casetta per gli uccelli o una cornice. In questo modo, puoi farti un'idea del processo senza lasciarti sopraffare. Questo ha senso. Non voglio mordere più di quanto posso masticare subito. Grazie per i suggerimenti. Lo apprezzo davvero. Certo. Sono felice che tu ti tuffi in questo nuovo hobby. Fammi sapere come va. Ok? Mi piacerebbe vedere cosa crei. Lo farà. Mi sento ispirato e pronto a provarlo. Sarà una nuova sfida divertente. Lezione 33. Caccia all'affare. Ehi Anna, hai fatto acquisti ultimamente? Lo sai. Adoro i buoni affari. Tu che ne dici? Lo stesso qui. Sono sempre alla ricerca delle migliori offerte. È fantastico. Hai qualche consiglio per trovare quelle gemme nascoste? Assolutamente. Innanzitutto, direi che si tratta solo di essere pazienti e di fare ricerche. Oh, ricerca. Eh? Cosa intendi con questo? Beh, mi piace dare un'occhiata ai volantini di vendita e agli annunci online per vedere cosa c'è in offerta. In questo modo, posso pianificare strategicamente i miei viaggi di shopping. Questo è un approccio intelligente. E che ne dici di individuare effettivamente quelle fantastiche offerte nel negozio? Ah, sì. Scansiono sempre le sezioni relative alle liquidazioni e tengo d'occhio eventuali promozioni a tempo limitato. Ottimi consigli. Altro che consiglieresti. Oh, e non dimenticare di controllare i coupon o gli sconti del programma Fedeltà. Questi possono davvero sommarsi e aiutarti a risparmiare molto. Sicuramente. Adoro accumulare queste offerte. È come una piccola caccia al tesoro. Esattamente. Il brivido della caccia è metà del divertimento. Inoltre, è così soddisfacente trovare qualcosa che ami a una frazione del costo. Non potrei essere più d'accordo. Mi hai dato delle ottime idee da provare durante il mio prossimo giro di shopping. Sono contento di aver potuto aiutare. Fatemi sapere se scoprite qualche occasione incredibile. Lo farà. Grazie per i suggerimenti. Mi sento ispirato ad andare a caccia di occasioni. In qualsiasi momento. Buona caccia, amico mio. Lezione 34. Educare Mark Mattina. Avete sentito parlare dei genitori di Mark e dei loro piani per il suo futuro? No, non l'ho fatto. Qual è la storia lì? Beh, sembra che siano davvero determinati a dare a Mark la migliore istruzione possibile. Oh, è fantastico. Che tipo di piani hanno in mente per lui? Da quello che ho capito, vogliono che Mark frequenti un'università di prim'ordine dopo il liceo. Wow, è ambizioso. Sono sicuro che vogliono solo il meglio per lui. Esattamente. Credono che una laurea prestigiosa lo preparerà al successo più avanti nella vita. Questo ha senso. Ma pensi che lo stiano facendo troppa pressione? Questo è un buon punto. Sembrano piuttosto determinati quando si tratta del futuro di Mark. Spero che non perdano di vista la possibilità di lasciarlo esplorare i propri interessi e talenti. Sì, sono d'accordo. L'istruzione è importante, ma lo è anche permettergli di trovare la sua strada. Assolutamente. È un equilibrio tra prepararlo per il futuro e coltivare le sue passioni. Sicuramente. Dovranno stare attenti a non imporgli la loro visione del successo. Esattamente. Mark dovrebbe avere voce in capitolo nella definizione dei propri obiettivi educativi e professionali. Assolutamente. Sarà interessante vedere come andrà a finire tutto per lui. Spero che i suoi genitori possano trovare un modo per sostenerlo dandoli comunque la libertà di crescere. Anch'io. Con l'approccio giusto, Mark potrebbe davvero prosperare. Grazie a tutti.